ciao nei video precedenti abbiamo parlato degli altri componenti che fanno parte dell'assetto oltre ai famosi ammortizzatori sportivi molle ripassate e distanziali e parliamo della barra duomi ad esempio che cos'è la barra duomi è una barra fissa o anche regolabile in estensione che serve a collegare i due duomi ovvero le due parti della scocca dell'auto che accolgono gli ammortizzatori e queste due parti con il movimento e l'utilizzo normale dell'auto hanno un leggero movimento elastico quindi effettivamente l'auto cioè si restringe e si allarga o si sposta un pochettino senza che noi ce ne accorgiamo e una barra duomi serve a evitare o quantomeno contrastare questo movimento nel senso che i duomi sono legati e bloccati da questa barra e quindi noi abbiamo una maggiore reattività e precisione di sterzo è uno di quei componenti che non si pensa possa avere molto molto effetto sino che non lo si prova soprattutto in pista se vi capita di provare un'auto con barra duomi e senza barra duomi ve ne innamorerete mi raccomando continuate a seguirci su tutti i nostri social instagram facebook tik tok e youtube naturalmente e sul nostro sito www.repartocorse store.it per molti articoli interessanti alla prossima ciao ragazzi